A fine ottobre si è tenuta a Cagliari un importante avvenimento della Chiesa italiana che ha riflettuto sul tema del lavoro. Ovviamente come tutti i grandi avvenimenti nazionali c'è bisogno di una ricaduta anche sul territorio. Per questo sabato 18 alle 10.30 al centro pastorale ci sarà un primo momento di restituzione da parte dei delegati che hanno partecipato alla settimana sociale di Cagliari dei temi affrontati e delle proposte emerse al governo. Sarà una prima occasione che presentiamo a tutta la comunità cristiana in collaborazione con l'azione cattolica diocesana e con le ACLI. Ovviamente ci attendiamo che anche successivamente a questo appuntamento parrocchie, movimenti e associazioni siano disponibili a un momento di confronto perché ci sia una ricaduta un po' su tutto il territorio delle proposte emerse. Nella stessa mattinata avremo l'opportunità anche di ospitare Francesco Chetta che è gesuita redattore della rivista Civiltà Cattolica e che ha scritto un libro Il lavoro promesso. È uno dei componenti della commissione organizzatrice della settimana sociale e ovviamente approfondirà alcuni temi, in particolar modo quello che viene chiamato il lavoro 4.0, quindi le sfide di fronte a tutte le nuove tecnologie e il tema del lavoro con i giovani. Quindi in questa occasione, oltre alle testimonianze di chi ha partecipato alla settimana sociale, avremo l'opportunità di ospitare un giornalista, scrittore che è in Italia, uno dei maggiori divulgatori dei temi dell'autorismo sociale della Chiesa.